amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive avete una bmw 128 ti e non vi soddisfa il sound della macchina stock seguitici nel video e vedrete come abbiamo migliorato la sonorità di questa splendida vettura sigla eccoci siamo qua in compagnia di questa splendida bmw 128 ti è una macchina che abbiamo già ripreso diverse volte in video passati ed è una macchina che io considero veramente intelligente nel senso cioè interessante più che intelligente è diciamo la diretta concorrente o diciamo che va in conflitto con le sportive più affermate tipo appunto la golf gt tanto per intenderci la sigla ti sta per turismo internazionale era una sigla che la bmw aveva diciamo utilizzato spesso nel passato poi l'aveva messa un po nel dimenticatoio adesso la riproposta su questa serie 1 che è uno step inferiore rispetto alla m135 e si posiziona appunto come top di gamma senza arrivare al appunto alla serie m che è una diciamo una serie a sé stante quindi di tutte le serie 1 più recenti questa è la versione più più prestazionale giusto per dare due numero quattro cilindri in linea turbo con 265 cavalli e sviluppa circa 400 newton medi di coppia la cosa interessante è che a livello di velocità e auto limitata 250 per cui una macchina che cammina parecchio e soprattutto accelera in maniera decisamente sportiva perché fa uno 0 100 in poco più di 6 secondi 6.1 a dire l'esattezza differenziale autobloccante trazione integrale quindi macchina assolutamente sicura e attaccata alla strada quello che ci ha chiesto il cliente come abbiamo premesso nell'introduzione è questo fatto un cliente che arriva addirittura da osta quindi noi che siamo a milano ci ha appunto preso come punto di riferimento è venuto da osta in maniera specifica per realizzare questo questa modifica qui stanno parlando appunto di una modifica che riguarda sound quindi parliamo dello scarico ecco in questo caso è uno scarico della ragazzon con valvola quindi abbiamo una valvola di gestione del sound quello che caratterizza questo genere di lavoro di di solito ragazzon e precise perfetta no che non lo sia in questo caso però abbiamo trovato alcune diciamo discrepanze e ci siamo dovuti come si suol dire arrangiare fra virgolette ogni tanto capita perché può capitare che appunto per una un determinato modello venga fatto un un cambiamento diciamo anche marginale e chi fornisce lo scarico magari non ha recepito questo cambiamento e chi poi chi monta si trova poi in difficoltà quindi diciamo partiamo dal dalla parte di innesto sul tubo centrale in questo caso diciamo l'innesto non era dello stesso diametro quindi per fortuna abbiamo diciamo compensato il problema andando a mettere una boccola di chiusura di compensazione che chiaramente all'interno facendo appunto i due tagli e stringendo con la brida che abbiamo appunto recuperato in questo caso appunto il lo scarico è perfettamente in linea con il salto per cui qua abbiamo un 50 e qua abbiamo un 55 qua abbiamo un 60 per cui questa differenza appunto l'abbiamo compensata con questo spessore all'interno poi proseguendo verso il reto questo è il terminale il silenziatore omologato come tutte le volte facciamo vedere l'omologazione gestito da valvola per cui in questo caso il motorino rimane quello di serie della macchina viene sganciato il connettore e all'interno c'è la valvola di apertura e chiusura il motorino quello che regola l'apertura e chiusura della valvola che viene fornita all'interno del terminale e anche in questa parte qua ci siamo trovati con alcune cose da sistemare nel senso nello specifico le due parti cioè i due raccordi che dal silenziatore portano la tubazione perpendicolare al parorti posteriore erano troppo lunghi in sostanza avevano questa parte di questa parte di riferimento che era più lunga di almeno tre dita per cui una volta diciamo posizionate il questo tubo qua al posto che uscire esattamente sulla perpendicolare andava completamente fuori sulla sulla parte esterna del sottoparorti ovviamente non si poteva montare quindi siccome come dicevo prima il cliente viene da osto non potevo dirgli aspetta che chiedo alla ditta di mandarmi le due curve corrette delle misure giuste allora ci siamo arrangiati abbiamo fatto la misura e max ha tagliato praticamente questo giusto per farvi vedere è la parte in più che abbiamo dovuto tagliare viceversa diciamo i due terminali due diciamo copri terminali che sono questi non non abbiamo potuto infilarli correttamente esteticamente sarebbe avuto fuori una schifezza quindi adesso questa è la prima parte che è stata puntata questo è come verrà il lavoro finito diciamo venendo da questa parte vedete che perfettamente centrato sul sul foro del sottoparaurti quindi per il momento è stata fatta la parte destra lo stesso lavoro verrà fatto sulla parte sinistra perché anche in questo caso in maniera speculare chiaramente dobbiamo tagliare una parte per poter accorciare il diciamo la curva e uscire in maniera perfetta ripeto sono problemi che però bisogna essere in grado di valutare e risolvere in maniera tempestiva perché in alcuni casi i clienti ci portano la macchina e ce la possono lasciare magari per un tempo un pochino più lungo in alcuni altri casi come appunto nel caso di questa bmw è assolutamente impossibile abbiamo creato un disservizio al cliente che vogliamo assolutamente evitare per cui va bene ogni tanto ci possono essere dei problemi legati alla fornitura di alcuni particolari però dobbiamo essere noi a intervenire e a cercare di risolvere in maniera perfetta non con degli accrocchi fatti all'ultimo momento ma facendo un lavoro professionale risolvere il problema in maniera tale da consegnare la macchina nei tempi stabiliti con un lavoro impeccabile quindi direi che questo è un lavoro sostanzialmente abbastanza semplice ve l'abbiamo voluto appunto far vedere soprattutto per capire che in alcune condizioni bisogna diciamo lavorare un pochino di fantasia e risolvere il problema io direi che per anche questa bmw 128 t è tutto come di consueto vi chiediamo di cliccare sulla campanella mettere un like che per noi è molto importante soprattutto iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao ciao ciao